Secondo corteo a Faenza in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Questa volta ad organizzarlo è stato il personale dell'ospedale Manfredo durante la settimana di eventi promossi dall'Ausola Romagna per parlare di violenza di genere a fianco di istituzioni, enti, centri antiviolenza, associazioni del territorio e fondazione Onda. Il corteo è partito dall'ospedale ed è arrivato in Piazza della Libertà. Sono 83 i nuovi episodi di donne vittime di violenza in città nel 2023. Una parte di loro si è presentata in pronto soccorso. È un tema molto sentito e tutti i pronto soccorsi sono coinvolti in queste attività. Noi abbiamo praticamente fatto la giornata conclusiva di questa settimana di iniziative della Romagna. Il pronto soccorso a Faenza ha, come tutti i pronto soccorsi, questa tematica in primo piano. L'attività di oggi è fatta proprio per questo, per cercare di sensibilizzare a quella che è la prevenzione di questi eventi perché purtroppo quando si arriva in pronto soccorso si può fare solo il meglio come assistenza, come umanizzazione della cura ma dovrebbe cercare di anticipare queste situazioni e prevenirle con quella rete che c'è e che ci può essere di contatti, di supporto e di aiuto prima ancora di arrivare a un caso di violenza conclamato che può essere il pronto soccorso. Che cos'è il progetto Welfare che presentate oggi durante questa manifestazione? È un progetto che è nato l'anno scorso, nel 2022, nella giornata internazionale contro la violenza delle donne. È un progetto che si pone l'obiettivo di una raccolta fondi per migliorare l'umanizzazione delle cure all'interno degli ospedali soprattutto nei pronto soccorsi. È un progetto che consiste nell'adozione di alcune simboliche di bambole, di pezze che sono realizzate oltretutto da un gruppo qui di Faenza e questo percorso di adozione propone proprio questa raccolta fondi che sarà destinata a migliorare l'accoglienza e l'umanizzazione delle cure all'interno dei pronto soccorsi. Sono già stati raccolti oltre 56 mila euro ed è stata già realizzata una prima struttura presso l'ospedale di Rimini che è stata inaugurata proprio in questi giorni, nell'occasione della manifestazione di quest'anno e a seguire verranno allestite adeguati ambienti anche negli altri ospedali della Romagna fino ad arrivare anche qui da noi a Faenza.